Lo scopo dello studio del segno è determinare gli intervalli nei quali la funzione è positiva, maggiore di zero, o negativa, minore di zero. Questo ci permette di trovare le zone di piano nelle quali giacerà il grafico della funzione, sopra o sotto l'asse delle x, e ci dà una mano nel calcolo dei limiti. Il procedimento è piuttosto semplice. Dovremo risolvere la disequazione f di x maggiore di zero. Diciamo subito una cosa importante, che ci sarà utilissima negli esercizi. Quando studiamo il segno di un prodotto di fattori, possiamo tralasciare quelli con segno positivo, perché moltiplicare per più non altera il segno. Se abbiamo più e lo moltiplichiamo per più, il risultato è sempre più. Se abbiamo meno e lo moltiplichiamo per più, il risultato è sempre meno. Quindi, quando andremo a studiare il segno delle funzioni negli esercizi, ci disinteresseremo dei fattori positivi. Trovati i risultati della disequazione, li rappresenteremo sul piano cartesiano, oscurando le parti di piano nelle quali non ci sarà il grafico della curva. Nello svolgere gli esercizi avremo a disposizione altre informazioni, dato che lo studio del segno, in uno studio di funzione, è un passaggio che è preceduto dalla ricerca del dominio e dall'analisi delle simmetrie. Un altro passaggio che precede lo studio del segno è la ricerca di intersezioni con gli assi cartesiani, che ci permette anche di trovare gli zeri della funzione, quindi i punti in cui il suo grafico tocca l'asse delle x. Non sempre, però, una funzione cambia segno in corrispondenza dei suoi zeri. Prima di passare alla parte pratica, vediamo un breve esempio che illustrerà come rappresentare i risultati. Supponiamo di ottenere come risultato della disequazione f di x maggiore di 0 l'intervallo delle x maggiori di 0. Inoltre sappiamo che questa funzione ha come dominio tutte le x appartenenti ad R e non ha simmetrie. Per rappresentare il risultato dello studio del segno, disegneremo gli assi cartesiani e poi oscureremo la parte di piano sopra l'asse delle x corrispondente alle x minore di 0 e la parte di piano sotto l'asse delle x corrispondente alle x maggiori di 0. Questo perché la funzione è maggiore di 0 quando x è maggiore di 0, quindi il suo grafico giace sopra l'asse delle ascisse. Per esclusione sarà minore di 0 quando x è minore di 0. Ma bando alle chiacchiere e vediamo gli esercizi pratici. Vediamo il primo esercizio nel quale dobbiamo studiare il segno di una funzione irrazionale. Il punto di partenza sarà sempre la ricerca del dominio. Non ci soffermeremo su questo passaggio, ma vi lascio in descrizione il link alla mia playlist sullo studio del dominio di una funzione, con diversi video su questo argomento. Questa funzione è definita per le x maggiori uguali di meno 2. La notazione ad intervalli, nella quale la parentesi quadra indica l'inclusione di un punto nel dominio, è comoda perché ci indica i punti estremi del campo di esistenza. Rappresentiamo gli assi cartesiani e poi le informazioni del dominio. La funzione non esiste prima di meno 2, quindi abbiamo oscurato la parte di piano corrispondente. Notiamo come la retta verticale x uguale meno 2 è tracciata con linea continua. Questa convenzione grafica ci ricorda che per x uguale meno 2 la funzione è ben definita. Ora studiamo il segno e imponiamo la funzione maggiore di 0. Una radice di indice pari è sempre positiva nel suo campo di esistenza, quindi quando è definita. Allora questa funzione sarà maggiore di 0 in tutto il suo dominio e non abbiamo bisogno di fare passaggi algebrici per risolvere la disequazione. Rappresentiamo graficamente questo risultato. Poiché sappiamo che la funzione è sempre positiva nel suo dominio, possiamo oscurare la parte di piano sotto l'asse delle x. L'area rimasta sarà quella in cui si troverà il grafico della funzione. Nel secondo esercizio dobbiamo studiare il segno di una funzione logaritmica fratta. Questa è definita per le x maggiori di 0 per la condizione di esistenza del logaritmo e diverse da e per la condizione di esistenza della frazione. Disegniamo il sistema di assi cartesiani e escludiamo la zona di piano delle x minori di 0 e i valori corrispondenti alla retta x uguale e. A differenza dell'esercizio precedente, la retta è tracciata con linea tratteggiata perché x uguale e è un valore escluso dal dominio. Per studiare il segno di questo rapporto, possiamo notare che 1 al numeratore è una quantità sempre positiva e allora la possiamo trascurare. Il segno della frazione dipenderà soltanto dal segno del denominatore. Per risolvere questa disequazione logaritmica, spostiamo l'uno a secondo membro cambiandolo di segno e serviamoci della definizione di logaritmo. Per approfondimenti vi rimando al mio video sulle disequazioni logaritmiche elementari. Ne trovate il link in descrizione. Ora possiamo rappresentare questo risultato. Sul piano, oscuriamo la parte sopra l'asse delle x fra 0 ed e. In questo intervallo la funzione è negativa e la parte sotto l'asse delle x dopo e, poiché la funzione in questo intervallo è positiva e il suo grafico giacerà sopra l'asse delle ascisse. Studiamo ora il segno di una funzione goniometrica. Questa ha per dominio tutte le x appartenenti ad R ed è periodica di periodo 2π. Inoltre è una funzione pari, simmetrica rispetto all'asse y. Data la periodicità studieremo il segno in un intervallo pari al periodo e potremo poi riportare il medesimo risultato in tutto il campo di esistenza. La disequazione da risolvere è questa. Possiamo notare che, essendo il coseno una quantità compresa tra meno 1 e 1, ciò che sta tra parentesi è una quantità sempre positiva, al più nulla, e la possiamo tralasciare. Tutto sta nel risolvere la semplice disequazione coseno di x maggiore di 0. Non vedremo come fare, ma potete approfondire il discorso sulle disequazioni goniometriche elementari guardando il mio video a riguardo. Rappresentiamo questi risultati nel piano cartesiano, oscurando le rispettive regioni fra x uguale 0 e x uguale 2pi greco. Come sempre, dovremo oscurare le regioni sotto l'asse delle x negli intervalli nei quali la funzione è positiva e quelle sopra l'asse delle x negli intervalli nei quali è negativa. Poiché la funzione è periodica, come accennato prima, possiamo replicare questi risultati in ogni intervallo di ampiezza 2pi greco. Come esempio, facciamolo fra meno 2pi greco e 0. Una nota! Questa funzione si annulla nei punti x uguale pi greco più 2k pi greco, ma in questi punti non cambia segno e quindi non sono riportati sul grafico. In questo esercizio vedremo come lo studio del segno ci aiuterà a determinare il risultato di un limite. Dobbiamo studiare il segno di una funzione razionale fratta e calcolare i limiti agli estremi del suo dominio. Allora, dopo aver preparato il sistema di assi cartesiani nel quale riporteremo le informazioni raccolte, iniziamo proprio cercando i valori per i quali la funzione è definita. Questo tipo di funzione è definita quando il denominatore è diverso da 0. Ne ricaviamo questa condizione. Una potenza è diversa da 0 quando la sua base è diversa da 0. La funzione allora sarà definita da meno infinito a 0 e da 0 a più infinito. Gli estremi di questi intervalli saranno i punti nei quali dovremo calcolare i limiti. Dal punto di vista grafico la funzione non avrà punti sull'asse y, che ha proprio equazione x uguale 0. Studiamo il segno, impostando una disequazione fratta. Possiamo notare che il denominatore è una potenza di esponente pari, sempre positiva o al più nulla. Possiamo tralasciarlo e risolvere soltanto la disequazione che riguarda il numeratore, dal quale dipenderà il segno della frazione. In pochi semplici passaggi, ricaviamo l'intervallo nel quale la funzione è positiva. Segniamo sul piano dove la funzione cambia segno e poi oscuriamo le parti corrispondenti. E giungiamo al calcolo dei limiti. Come accennato prima, li dovremo calcolare agli estremi del dominio. Saranno 4, a meno e più infinito, e a 0 da sinistra e da destra, quindi 0 meno e 0 più. I limiti ad infinito valgono entrambi 0, poiché, avendo il rapporto tra due polinomi, è quello di grado massimo, che sta a denominatore, che decide le sorti del limite. Per approfondimenti vi rimando al mio video sui limiti di funzioni razionali fratte, che si presentano nella forma indeterminata infinito su infinito. Le informazioni sul segno della funzione ci permettono di stabilire con facilità che i limiti valgono rispettivamente 0 meno e 0 più. Cioè, per x che tende a meno infinito, la funzione tende a 0 per difetto, e per x che tende a più infinito, la funzione tende a 0 per eccesso. Questo perché andando verso meno infinito, il grafico della funzione si trova sotto l'asse delle x, quindi l'unico modo per tendere a 0 è per difetto, cioè per valori minori di 0. Un discorso simile si può fare per x che tende a più infinito. I risultati dei limiti per x che tende a 0, sia da sinistra che da destra, sono entrambi infinito, perché sostituendo si ottiene il rapporto tra meno 1 e 0. Dal grafico vediamo che la funzione, in un intorno di 0, giace sotto l'asse delle x. Allora è facile dedurre che i limiti a 0 valgono entrambi meno infinito. Come abbiamo visto, lo studio del segno ci ha aiutato a determinare con precisione i risultati dei limiti. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio.